5 bidoni del Napoli Nicolas Navarro, portiere acquistato nel 2008 per 4 milioni di euro, passerà la storia come il più scarso della Serie A, facendo una marea di papere, ricordato per le notti brave con l'amico Lavezzi. Jesus Dato, preso nel 2009 con tantissime aspettative, tuttavia con il Napoli collezierà soltanto 9 presenze nel primo anno, verrà ricordato per aver fatto un assist e un gol contro la Juventus, aiutando il Napoli a batterla dopo 21 anni. Simone Verdi, dopo una stagione eccezionale al Bologna, nel 2019 passerà al Napoli e collezionando soltanto 22 presenze e 3 gol. Leonardo Pavoletti, preso per 18 milioni dal Genova, si rivelerà un flop totale, con solo 10 presenze e 0 gol, Sarri farà di tutto per liberarsene, mandandolo al Cagliari dopo soli 6 mesi. Edu Vargas, nel 2012 viene acquistato dal Napoli dopo un'annata strepitosa in Cile, risultato 28 presenze e solo 3 reti. Dopo soltanto un anno andrà all'Offenheim senza mai tornare più al Napoli. Seguimi per altri contenuti simili.